Ragazzi, cioè ora, non è che qua ci si deve sempre lamentare, è un fatto di proporzione. Se io non vi do da bere per 10 giorni e dopo per i successivi 20 giorni vi do da bere 50 litri al giorno, capite che state male in tutti e due i casi, ci vuole un qualcosa di bilanciato e proporzionale. Ora sta arrivando tutta l'acqua insieme, i terreni non erano pronti perché si sono tutti compattati, perché non c'è l'acqua, si sono tutti compattati, tutta quest'acqua non riusciamo a gestirla, anche le stoccazze, noi stiamo facendo le stoccazze però a volte fango, insomma è problematica perché rischiamo veramente a luglio, se dopo giugno-luglio non piove, di essere al punto di prima. Ci vorrebbe costanza nelle precipitazioni, in più ora abbiamo un ulteriore problema che è tutti i trattamenti che devi andare a fare perché partiranno i funghi di maledetto e soprattutto il marcium apicale.